O voi che avete gli intelletti sani, mirate la dottrina che sasconde sotto il velame degli versi strani. È Dante stesso con queste parole che ci invita a cercare qualcosa contenuto all'interno del suo poema, qualcosa di nascosto, qualcosa che non è evidente come la teologia manifestata o il sapere scientifico, artistico dell'epoca. Perciò cominceremo proprio introducendo gli studi che su Dante nei 700 anni della sua nascita, quindi nel 1965, propose attraverso uno scritto poi pubblicato nel 1966 dal titolo Altissimi Cantus. Ve lo leggo perché il personaggio in questione è Paolo VI, Giovanni Battista Montini. In quell'occasione gli scrisse Massimo poeta, creatore della sua lingua, custode e protettore della sua civiltà. Sono parole molto belle che sembrano rivalutare tutto Dante rispetto alle persecuzioni che la Chiesa stessa fece subire al poeta nella sua epoca. Però continua, poeta e mistico. Qui il Papa mette insieme due termini, il poeta e il mistico. E per mistico non dobbiamo pensare all'aspetto devozionale, non dobbiamo pensare a Dante come a un devoto. Mistico, nel senso usato da Paolo VI, è proprio colui che vive un'esperienza di rapporto personale con il sacro, cioè colui che si mischia, si unisce al sacro. Ma continua il Papa, poeta dei teologi e teologo dei poeti. Quindi stabilisce per Dante una supremazia sia tra i poeti che tra i teologi. E aggiunge, meravigliosi tesori spirituali sono nascosti nel poeta. Quindi lo stesso Papa dice che ancora non abbiamo scoperto tutto della Divina Commedia. E aggiunge, una segreta parentela unisce certamente i mistici e i veri poeti. Ed è vero, infatti, i libri della Bibbia più commoventi, più belli, anche quelli che inclinano più l'animo all'altezza, sono proprio i libri scritti in poesia come i salmi, i proverbi, la sapienza. Tra i poeti mistici Dante è il modello difficilmente superabile. E a questo punto ci ha proprio completamente rivalutato Dante. Il fine della Divina Commedia, prosegue Papa Montini, è anzitutto pratico e volta a trasformare e a convertire. Quindi ci sta dicendo che il fine della Commedia non è tanto quello di informare sulla teologia, no, no, dice proprio è un testo pratico da utilizzare perché lo scopo è trasformare la coscienza e convertirla. È un itinerario della mente in Dio, espressione che, come sappiamo, venne usata anche da San Bonaventura di Bagno Reggio, riferendosi proprio alle proprie ascesi mistiche. È un tempio il testo di sapienza e di amore, cioè sta dicendo che all'interno del testo il tempio, noi lo sappiamo, è il luogo in cui si manifesta e al tempo stesso è celata la presenza divina. Qui sta dicendo nella Divina Commedia è nascosta, ma al tempo stesso è manifestata, la sapienza e l'amore di Dio. Poi aggiunge, quelli che poi sono più indotati non solo abbiano in mano giorno e notte una copia della Divina Commedia, sublime capolavoro, ma approfondiscano anche tutto quanto vi rimane di inesplorato ed oscuro. Quindi anche se ci sono aspetti non compresi, bisogna studiarli. Non bisogna per questo considerarla qualcosa di inarrivabile, irraggiungibile o comunque di complicato. Cerchino tutti di leggerlo integralmente, senza precipitazione né di corsa, ma con mente penetrante e attenta riflessione. Che se per vari motivi a molti ciò non riesca possibile, difficilmente si trovi qualcuno che ne ignori il contenuto, gli ideali, le parti e versi più famosi. Va bene, noi sappiamo che Paolo VI fu un papa eccezionale, tutti ricorderanno la sua famosa lettera agli artisti, quella con cui chiese pubblicamente scusa per le persecuzioni e le sofferenze che il clero, non la chiesa, che il clero aveva imposto agli artisti. E al tempo stesso era anche un abile mediatore, infatti nella ricorrenza continua in questo testo dicendo qualcuno potrebbe forse chiedere come mai la chiesa cattolica, per volontà e per opera del suo capo visibile, si prenda così a cuore di celebrare la memoria del poeta fiorentino e di onorarlo. La risposta è facile e immediata, perché Dante Alighieri è nostro per un diritto speciale, nostro, cioè della religione cattolica, perché tutto ospira amore a Cristo, nostro perché amò molto la chiesa di cui cantò gli onori, nostro perché venerò e riconobbe nel romano pontefice il vicario di Cristo in terra. E con questa conclusione Paolo VI vuol mettere su Dante Alighieri l'imprimatur definitivo della chiesa cattolica. E perché fa questa operazione? Perché proprio poco tempo prima, due anni prima, una grande studiosa aveva pubblicato un testo che aveva un po' complicato l'interpretazione ordinaria della Divina Commedia e ne parleremo appunto nel prossimo video. Grazie per la visione!